Musica Alle prime luci dell'alba di stamattina i carabinieri della Compagnia di Monreale hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di sette persone. Due in carcere, quattro agli arresti domiciliari, uno sottoposto all'obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria, indagati a vari titoli per i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacente, ma anche di tentata estorsione e furto in abitazione. Il provvedimento è messo dal Tribunale di Palermo nel corso di indagini preliminari su richiesta della Procura e frutto di una complessa attività investigativa che parte nell'agosto 2020 e finisce a marzo 2021 e costituisce il proseguo dell'operazione Panaro che nel luglio scorso aveva condotto l'arresto in custodia cautelare di quattro persone. Vendita è il dettaglio di sostanze stupefacenti nel quartiere Altarello di Baida, nonché si è permesso di approfondire rapporti criminali ai canali di approvvigionamento dello stupefacente. L'attività investigativa condotta ha consentito di rilevare che gli indagati si sarebbero occupati della gestione di una piazza di spaccio all'interno del quartiere Altarello, dove venivano venduti al dettaglio cocaina, crack, hashish e marijuana, un giro di affare di 100.000 euro su base annua. Documentati anche episodi estorsivi ai danni dei gestori della piazza di spaccio in pagamento di un'incente quantità di droga risalente a 5 anni prima. Durante l'operazione sono stati rinvenuti 220 grammi di marijuana pure in cristalli e somma di denaro per 2.415 euro. Sul delega della Procura della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato stamattina ha dato esecuzione all'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare in carcere per due soggetti e tre invece alla misura degli arresti domiciliari. Sono indagati dai delitti di associazione per delinquere, finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti di tipo eroina, cocaina e marijuana, con l'aggravante per aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Clan Sant'Angelo Taccuni, operante in Adrano e costituente articolazione territoriale dell'associazione mafiosa denominata Clan Santa Paola Ercolano, famiglia catanese di Cosa Nostra. In carcere sono finiti Gaetano Di Giovanni e Salvatore Restivo, mentre agli arresti domiciliari Fabio Castelli, Vincenzo Bauso e Agatino Di Marzo. L'attività di indagini ha consentito intanto di appurare che al vertice, in qualità di capri i promotori, c'erano i fratelli Castelli Fabio e Castello Vincenzo, quest'ultimo già divenuto in seguito al suo arresto collaboratore di giustizia. Il fornitore di eroina era un trafficante operante a Palagonia. Lo spaccio avveniva all'interno di una piazza in via Rometta ad Adrano. L'organizzazione invece raccoglieva le scorte all'interno di una garage ubicato in via Lamalfa ad Adrano. Il gruppo aveva anche una forza intimidatrice e il gruppo si dotava infatti di armi da sparo, assicurandosi l'apporto militare necessario a sostenere il confronto con altri gruppi malavitosi. Le indagini hanno consentito vari arresti, ma anche sequestro di sostanze stupefacenti e armi da sparo. I carabinieri di Catania sequestrano i beni di un affiliato della famiglia Santa Paola Ercolano, contrasto dunque alla mafia. Il nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania sta seguendo un decreto di sequestro preventivo di beni patrimoniali, finalizzato all'eventuale confisca. È stato emesso dal Tribunale di Catania e danni di Fiore Salvatore, affiliato alla famiglia Santa Paola Ercolano, attualmente detenuto a seguito dell'operazione dei carabinieri Fiori Bianchi nel 2013. I militari dell'arma stanno ponendo i sigilli a due immobili, un fondo agricolo e un'attività commerciale, siti nei comuni di Catania e Mascaluccia, per un valore di oltre 500 mila euro acquisiti attraverso il reimpiego di capitali illeciti. Le indagini patrimoniali svolte dai carabinieri hanno infatti portato alla luce la notevole sperequazione tra il reale tenore di vita dell'uomo e della sua famiglia e la loro dichiarata capacità reddituale. I commissari dell'ex Bluetech sono pronti a chiedere al Ministero per lo Sviluppo Economico la pubblicazione del bando per rilancio dell'area dei termini merese. Allo stesso tempo abbiamo già definito la bozza per il rinnovo dell'accordo di programma. Noi confermiamo lo stanziamento di 70 milioni di euro e lavorerò finché il Ministero inserisca le risorse necessarie per la reindustrializzazione dell'intera area di termini merese. Inoltre è stato attivato all'Inps affinché assieme ai commissari verifichi le condizioni per accompagnare i lavoratori che hanno i requisiti al prepensionamento. Lo afferma l'assessore regionale delle attività produttive Eddi Tamaio a seguito del tavolo tecnico che si è riunito ieri. Al tavolo hanno partecipato i tre commissari della ex Bluetech, l'assessore regionale al lavoro, il dirigente del Dipartimento Attività Produttive, e il commissario dell'Azen Sicilio Occidentale, il presidente della polo Meccatronica, presenti anche responsabili dell'Inps. Il prossimo passaggio, dice Tamaio, sarà il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. Dobbiamo correre nei prossimi 15-20 giorni, mi attiverò con il Mise per la convocazione dell'incontro. Le grandi infrastrutture, la rete ferroviaria, la mobilità secondaria e la situazione delle società regionali, AST, CAS e Interporti, sono state al centro di un incontro promosso dall'assessore regionale alle infrastrutture, Alessandro Arico, e attorno al tavolo si sono seduti, oltre all'esponente del governo Schifani, i vertici regionali di CGL, CISL, UGL e UGL, oltre ai dirigenti generali dei Dipartimenti Infrastrutture e Tecnico dell'assessorato. Abbiamo rappresentato i sindacati e sottolineato a Ricola le sfide che attendono l'assessorato nei prossimi anni. I sindacati, oltre a condividere la necessità di mettere in campo un piano di manutenzione per la viabilità secondaria, la cui competenza era dell'ex provincia, hanno manifestato la preoccupazione per il futuro di AST, CAS e Interporti. A Ricò, accogliendo la richiesta, si è quindi detto favorevole all'istituzione di un apposito tavolo tecnico. L'assessore ha ricevuto anche i rappresentanti sindacali della Faisa CISAL. Per anni è stata definita una incompiuta, avviata e mai portata a termine tra mille lungaggini burocratiche e una serie infinita di rinvii, ma la situazione radicalmente mutata è stato completato a Messina all'intervento di riqualificazione del torrente Catarratti-Bisconte, un'opera progettata negli anni 90. L'area coinvolta dall'intervento comprende diverse abitazioni a poca distanza dal corso d'acqua lungo circa due chilometri e mezzo, un costo di 30 milioni di euro per lavori che, per la durata di tre anni, hanno consentito di eliminare tutte le criticità e i pericoli. Eseguita la sistemazione idraulica del torrente unilateralmente a varie opere di razionalizzazione della sede stradale, che costeggia il canale fino all'abitato di Catarratti, è stata realizzata anche una nuova rete fognaria che ha sostituito quella precedente che si sviluppava per gran parte dell'alveo del torrente. Raggiungiamo un importante traguardo, commenta il presidente della regione siciliana Renato Schifani, alla guida della struttura commissariale, nella consapevolezza delle tante fragilità del territorio e della necessità di aprire con tempestività per prevenire e mitigare i rischi per la popolazione, è nostra ferma intenzione proseguire nel percorso intrapreso. A Siracusa e provincia, anche nel 2023, il vino sarà protagonista e l'associazione italiana Sommelier non sta a guardare. Per l'occasione si fa in due, mentre a Siracusa dal primo marzo partirà il secondo dei tre livelli previsti per arrivare all'esame finale e ottenere la qualifica professionale di sommelier, a noto da giovedì prossimo, 16 febbraio, la delegazione retusea guidata da Alessandro Carruba sbarca col primo livello del corso AIS. Abbiamo chiuso il primo livello a Siracusa con buoni iscritti, oltre 70, spiega Carruba, delegato AIS per la provincia di Siracusa. Questo vuol dire che c'è grande richiesta da parte di tantissime persone che provengono da diversi settori. Il motivo di avviare un corso di primo livello per diventare sommelier a noto nasce proprio da questo motivo. Nei territori a sud della provincia, noto, Avola, Rosolini, Pachino, dove sappiamo benissimo esserci in importantissima cultura del vino, tantissime persone hanno necessità di approfondire le tematiche legate al vino per motivi professionali. In corso, già sold out, si svolgerà nel corso della loggia del mercato di Via Rocco Pirri, la sede della strada del vino e dei sapori della Val di Noto. A Siracusa, dal primo marzo, prosegue il percorso invece per diventare sommelier col secondo livello che si addentrerà in argomenti più specifici. Si farà un giro d'Italia dei vini, la scoperta del patrimonio enologico del paese, poi ci saranno lezioni sulla Francia e il resto del mondo e annuncia anche in conclusione che a Ruba chiuderemo l'anno con il corso di terzo livello, quello che permetterà ai corsisti di sostenere l'esame per diventare sommelier e il corso dovrebbe partire a novembre 2023. Tutto questo è stato possibile grazie anche al lavoro straordinario di tutta la delegazione. Grazie a tutti!